Un ideale ponte sul mare Adriatico che dalla Croazia confluisce nel Monte Feltro portando alla scoperta di borghi quali Lunano, Berforte-Lisauro e Sasso Corvaro Auditore. E' questo l'obiettivo di Escover, progetto europeo di cooperazione trasfrontaliera Italia-Croazia presentato in provincia dal Gal Monte Feltro. Un ente impegnato nello sviluppo dell'area interna che si declina dalla crescita rurale a quella di valorizzazione turistica all'insegna di un binomio natura-cultura. Il Gal gestisce fondi europei del piano di sviluppo rurale, sono fondi dell'agricoltura destinati allo sviluppo rurale dei territori. Noi, il Gal Monte Feltro è il Gal di riferimento ai 30 comuni dell'entroterra, è una specie di provincia dell'entroterra. Il turismo è un segmento, un settore importante che noi cerchiamo di sviluppare anche realizzando progetti come questi. Un progetto molto interessante che collega le due sponde dell'Adriatico, quella pesarese a quella dalmata, che sono state in fin dei conti collegate anche nel corso dei secoli. Oggi può esserci una combinazione di turismo favoribile tra la Croazia e la provincia di Pesaro per un turismo verde, sostenibile, per un turismo ambientale e con la bellezza di riuscire ad attraversare anche l'Adriatico. Io penso e credo che sia una possibilità enorme sia per noi che per la Croazia, per uno scambio non solo turistico ma anche culturale. Gli itinerari sono stati sviluppati attorno alla visita di monumenti ai castelli, pievi e chiese, dalla rocca ubaldinesca e la reliquia di San Valentino a Sasso Corvaro al museo della linea gotica di Casinina al castello del Barone di Beaufort a Belfort a Lisauro. Parallelamente anche le possibilità di una vacanza tra sport e relax, dal trekking all'equitazione fino a kayak e canoa grazie al lago di Mercatale. Per l'amministrazione di Belfort a Lisauro è una opportunità unica di far conoscere le proprie bellezze. Come tutti i comuni del Montefeltro è un piccolo diamante grezzo da scoprire e da valorizzare. Viene valorizzato e scoperto attraverso degli strumenti. Grazie a questo, grazie al progetto Escover all'apporto del GAL Montefeltro, pensiamo di riuscire a fare questo e quindi di riscoprire tutte quelle nostre bellezze locali tipiche del nostro paesaggio.